Eccoci ben ritrovati alla continuazione di questo corso sugli Screen Bash con la lezione numero 7, nella quale parliamo di aritmetica semplice. Ebbene sì, dopo aver passato lo scoglio delle due precedenti lezioni, fra le quali l'ultima parlava di stringhe, che è un capitolo molto importante, e quindi con una lezione altrettanto, diciamolo pure, pesante, lunga e importante, non è escluso l'uso dei valori numerici e di una semplice aritmetica negli Screen Bash. Cioè essendo molto estesa la possibilità di gestire le stringhe di caratteri, nei Screen Bash come avete potuto vedere, c'è anche una piccola parte che si occupa di calcoli semplici, che possono sempre servire anche quelli. Quindi non è che con l'aritmetica che abbiamo a disposizione, così sui due piedi diciamo, in modo senza andare nel complicato, non è che faremo calcoli a livello del CERN, ma potremo fare dei calcoli che possono servire al nostro script per prendere delle decisioni o per salvare dei valori o per qualsiasi cosa, insomma. In sostanza un semplicissimo esempio per esempio di moltiplicazione è questo, dollaro parentesi, parentesi tonda doppia, 2 per 3, chiuso la parentesi tonda doppia. Ecco questa sintassi con la doppia parentesi rotonda e il dollaro davanti, con dentro il calcolo in mezzo, incluso, ci fa una semplice moltiplicazione. Ecco, per esempio, adesso lo vediamo fra un attimo con qualche esempio qua nel nostro solito script bash che ci accompagna nelle lezioni. Ecco, bisogna subito dire, e l'ho messo in grassetto per un motivo, che l'aritmetica disponibile senza niente di particolare negli script bash, usandolo così nudo e crudo, come si suol dire, è solo per numeri interi, quindi niente decimali, eh? Quindi se facciamo 3 diviso 2 già non vediamo 1.5, ma vedremo probabilmente solo 1, il che non è corretto, però da sapere. Quindi lo script bash, così com'è al naturale, permette una semplice aritmetica per più o meno diviso, solo o con numeri interi. Però naturalmente ci vengono in soccorso dei comandi aggiuntivi, se vogliamo ampliare i nostri orizzonti, e guarda un po', c'è un comando che si chiama BC, che non so se significhi bash calculator, calcolatrice bash, non lo so, bash, bash, chi lo sa, comunque prendiamolo così, il suo nome è BC, che può fare appunto dei calcoli anche più complessi, quindi BC permette, tanto per cominciare, di fare dei calcoli che ritornino anche dei decimali, uno o più decimali, a seconda di quanto gli indichiamo. Allora, ecco qui un esempio, dunque, scale uguale a 5 vuol dire che vogliamo 5 decimali, il calcolo da fare è 2 diviso 3, e noi prepariamo una stringa di questo tipo come parametro per il comando BC, per la nostra calcolatrice complessa, chiamiamola così, quindi echo per visualizzare, per stampare questa stringa, e mandarla con un pipe che ormai conosciamo, quindi via tubazione, diciamo così, inviare l'output di questo comando echo, quindi questo parametro, come input per BC, per la calcolatrice, opzione meno L per vedere appunto i decimali, ed ecco che il risultato sarà questo, adesso lo vediamo con lo script. Dunque, lo vediamo con lo script, però volevo vedere ancora questo esempio, quindi naturalmente non si può fare anche indicando direttamente i valori del calcolo, così come lavorando con le variabili, se io assegno la variabile A al 2, la variabile B al 3, a una variabile assegno anche la stringa di input per la calcolatrice, mandiamo il tutto alla calcolatrice, e nella variabile 1, con questa espansione di comando dollaro, parentesi aperta, chiusa qui, quindi ormai questo lo conosciamo, il dollaro permette di ottenere il risultato dei comandi all'interno, quindi noi gli abbiamo mandato di dividere A per B, variabili, con 10 decimali, questa volta ci ritornerà a 0, 6, 6, 6, 6, 6, nella variabile 1. Ecco, questo lo possiamo anche vedere direttamente a terminale, poi partiamo appunto col solito esempio qui dello script, quindi ne posso anche fare, faccio un bel copia e incolla di questo comando, così lo vediamo, perché no? Incolla, facciamo enter e vedete che tutto questo comando, quindi stringa inviata BC, mi ritorna puntino 0, 6, 6, 6, con 5 decimali. Il secondo comando lo possiamo fare, facciamo una prova, perché no? Allora la variabile A, gli assegniamo A maiuscola, assegniamo il valore 2, alla B maiuscola, assegniamo il valore 3, poi ci copiamo tutto questo comando che assegna alla variabile 1, var1, il risultato del calcolo, così facciamo anche un po' di ripasso, quindi var1 uguale al risultato di questo calcolo, enter, e poi facciamo un bel eco, dollaro, var1 e otteniamo i 10 decimali, il stesso risultato ma con 10 decimali. Ecco, vedete che funziona, quindi però appunto per andare oltre la rimetica degli interi, dei numeri interi, quindi senza decimali bisogna usare questo comando bc. Ok, adesso partiamo con, come di consueto, con il nostro script per vedere qualche esempio passo passo. Sì, quindi andiamo a recuperare, ecco qua, non parte 0, 6 ma parte 0, 7. Allora, un bel clear per pulire il tutto e poi vediamo un po' che cosa è successo con questo script. Quindi abbiamo assegnato alla variabile A il valore 20 qua, poi la B il 35, poi abbiamo fatto una somma per esempio, abbiamo assegnato alla variabile somma la sintassi per la rimetica sui numeri interi del motore bash, A più B, vedete, dollaro, parentesi rotonda, parentesi rotonda aperta, A più B, chiusa, chiusa. E la somma, poi naturalmente ecco, somma, ci dà 55 che è anche corretto, vedete che funziona. Così come la sottrazione, ho fatto A meno B, quindi A è minore di B, va sotto 0 di 15, vedete, il meno, almeno il meno, vabbè, rimetica intera, comunque, meno 15 la sottrazione. Così come la moltiplicazione A per B, vedete, moltiplicazione 700, così come la divisione A diviso B, ecco, A diviso B, rimetica con bash, naturalmente essendo i numeri interi ci torna 0 perché non ci sono i decimali, perché 20 diviso 35 dovrebbe essere 0 qualcosa, ed ecco che qui interviene quello che abbiamo appena visto, la calcolatrice più complessa, quindi la divisione con quel comando che abbiamo visto per inviare al comando BC, quindi la calcolatrice complessa BC meno L, e ci ritorna il puntino 57142 con 5 decimali. Ok, quindi ripeto velocemente, ecco che ci permette di comporre la stringa dei parametri da dare in pasto alla calcolatrice BC, con il pipe lo inviamo appunto questa stringa alla calcolatrice BC che col suo parametro meno L ci tornerà il risultato con i decimali. Ecco, poi anche con le tuple si possono fare calcoli, questo può essere utile perché se lavoriamo con delle tuple, con dei valori, con delle variabili multiple ad indice, possiamo fare anche dei calcoli con le tuple, quindi abbiamo nel nostro esempio qui abbiamo una tupla che si chiama numeri caricata con i valori dal 25, 43, 60, 2 e 15, quindi con l'indice 0, 1, 2, 3, 4, ricordiamoci che nelle tuple dove non è specificato l'indice parte da 0, quindi la sintassi di calcolo 1, per esempio, io dico che nella tupla con l'indice 5 voglio inserire il calcolo del valore 1 più il valore contenuto nell'indice 3, quindi quanto c'è nell'1, quindi 43, più quanto c'è nell'indice 3, quindi 0, 1, 2, 3, il 2 dovrebbe darmi 45, quindi dovrei trovarmi nell'indice 5 della tupla, che è al di fuori di questo, quindi un ulteriore indice, 0, 1, 2, 3, 4, quindi il quinto è il prossimo, voglio inserire nella tupla indice 5 il risultato 45, poi faccio ecco numeri di 5 uguale, vediamo un po', vedete i numeri di 5 uguale 45, così come, ecco tra l'altro qui ne approfitto perché abbiamo introdotto un nuovo comando, a parte il BC che è la calcolatrice, il comando EXPR, di cui ho anche messo una nota qua, il comando EXPR è un comando molto generico nel senso che è una vasta applicazione che da come si può intuire dal nome EXPRESSION serve a interpretare delle espressioni, quindi è un modo per fare il calcolo con le tuple per esempio, quindi gli dico di svolgere, di eseguire questa espressione, quindi ecco fino a qua, gli dico EXPRESSION, quindi do il contenuto della tupla indice 1 più il contenuto della tupla indice 3, che deve essere considerato un'espressione da interpretare, quindi fa la somma di EXPRESSION, ok? Ecco un'altra particolarità, a parte il comando EXPRESSION che vi ricordo sempre di andare a visualizzare i dettagli se lo ritenete necessario, opportuno, con il comando MAN sempre, c'è una particolarità del comando ECO che non abbiamo ancora incontrato, che è l'opzione meno N, abbiamo già incontrato l'opzione meno E per le sequenze di caratteri speciali, e meno N è quello che permette di non andare a capo con il comando ECO che segue, che vedete qui ho un comando ECO meno N numeri di 5 uguale, e poi sotto un altro comando ECO che mi dà il contenuto della tupla indice 5, se non ci fosse la N avrei due righe per dire che numeri 5 uguale 45, invece vedete che con l'opzione N l'ECO che segue viene portato sulla stessa riga, quindi io scrivo prima un ECO numeri 5 uguale, il secondo ECO 45 e ne riportato sopra e si va avanti a scrivere da lì. Semplicemente per mettere sulla stessa riga due comandi ECO separati, la stessa cosa viene usata con il comando successivo, vedete qua sotto ECO meno N numeri 6 uguale, il risultato del calcolo è stato messo sulla stessa riga, quindi meno N serve per unire sulla stessa riga due comandi ECO separati. L'ultimo esempio di calcolo è praticamente simile a quello sopra, a questo qua, cioè questo e questo sono praticamente la stessa cosa, a parte che qui si fa una moltiplicazione e qui una somma, ma la stessa cosa nel senso che sono due sintassi alternative, qui ho usato il comando EXPR per far eseguire e interpretare questa espressione aritmetica, mentre qui uso la sintassi che abbiamo già visto, dollaro parentesi rotonda parentesi rotonda, un po' come qua sopra, come all'inizio, dollaro rotonda rotonda e dentro il calcolo da eseguire, e qui ho messo dollaro rotonda rotonda, il calcolo da eseguire, quindi la tupla indice 0 moltiplicata per la tupla indice 2 e poi chiusa parentesi parentesi, quindi questa sintassi sopra l'ho riproposta anche qui per le tuple, perché non è obbligatorio usare il comando EXPR per i calcoli delle tuple, ma è un'alternativa, quindi vi introduco un comando in più, EXPR, potete usarlo o meno, sappiate comunque che la sintassi, diciamo così, classica, funziona comunque, ed ecco che il risultato è 1500, perché abbiamo moltiplicato l'indice 0 per l'indice 2, che sarebbe il 25 l'indice 0, 1 è 60, e l'indice 2, quindi 25 per 60, vabbè, 1500. Ecco qua, siamo già arrivati alla fine, comunque come avevo già pronunciato le due lezioni, le due lezioni che hanno preceduto questa dovrebbero essere state le più pesanti, queste sono più brevi, perché sono argomenti meno vasti, meno pesanti, però è anche meno complessi da capire, però ecco, anche la rilmetica se serve sappiate che c'è, sia banalmente per i numeri interi, che è anche un po' più complessa con la calcolatrice BC. Voilà. Terminata questa lezione, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, se avete come sempre il coraggio e la continuità nel seguirmi in questo lungo corso, e vi attendo alla prossima lezione. Ciao ciao!